Scusatemi, pensavo fosse arrivata, è arrivata, non è arrivata. Che vi devo dire? Non è arrivata, non appena giunge ve lo proponiamo. Noi documentiamo quanto ci giunge, non possiamo inventarci nulla come i lavori di Piazza Vittorio Emanuele II. Iniziamo quindi questo appuntamento ringraziandovi naturalmente per la vostra disponibilità, a continuare a seguirci, anche se voi che siete il mio specchio, di coloro i quali sono il nostro specchio, qualcuno ha detto che io urlo. Io urlo. Ma che cosa dite? Non urlo per niente. E chi deve regolare un microfono che non lo abbassa quando io alzo la tonalità? Perché se gli ospiti non terminano il loro intervento nei minuti previsti, canonici, televisivi, io sono costretto a intervenire e sono costretto ad alzare un po' la tonalità per. È naturale che poi ognuno ha il suo carattere. Insomma, a chi non fa piacere può cambiare programma, come ve lo devo dire. E' da parecchio che lo dico, quindi meglio un telespettatore in meno che qualcuno che non gradisce un cittadino che si altera nel momento in cui, uscendo dalla propria abitazione, vede che le uniche strade pulite, questa è la notizia bella di oggi, sono quelle da poco asfaltate. E allora la soluzione c'è. Asfaltate tutta acqua viva, a giorni alterni. E' più facile asfaltare tutta la città che non che venga purita la nostra città, visto quanto è sporca. Ma andiamo subito alle immagini. Che cosa ci propone la redazione? Allora, è naturale che questa pavimentazione non è in queste condizioni da ieri o da questa mattina, è da un bel po' di tempo. Allora, chi è già caduto, chi si è già fatto male, chi è andato a votare, lo ha fatto perché voleva che quanto non si era stati capaci di fare prima, lo si facesse dopo le elezioni. E allora, vogliamo ripristinare via Brusci, se non ricordo male questa, la via di Sant'Agostino per intenderci, o dobbiamo far cadere qualche altro artigiano e deve avere dei danni, o qualche commerciante, ma il singolo cittadino deve avere dei danni. Si può ottenere ancora la pavimentazione in queste condizioni? Vi avevo consigliato, con uno spray colorato, almeno di andare lì, perché non si vedono queste chianche così rotte, perché è tutta una pavimentazione. cerchiamo di intervenire al più presto, sono in pessime condizioni. Andiamo avanti, si, si, sorvoliamo. Ora, che altra richiesta avevo fatto? Visto che si stanno realizzando i lavori in piazza Vittorio Emanuele II, a che cosa servono questi parapedonali qui, sono ancora in vigore questi impianti pubblicitari, c'è ancora un contratto, c'è una convenzione, laddove non c'è un vincolo, vogliamo rimuovere, si stanno eseguendo i lavori, rimuovete questi paletti che danno solamente fastidio, così il passante può passare da quelle famose strisce pedonali a cui mi riferivo io prima, in maniera più sicura e soprattutto non a senso unico alternato, io vorrei capire come fanno lì due persone contemporaneamente a passarci, e anche quelle a norma, perché poi quelle fuori norma, secondo quanto diciamo scherzando con Nicola Gravina, non ci passano nemmeno normalmente, perché lì se uno è un po' grasso, scusatemi amici che avete qualche problemino, e se lì qualcuno è più grasso, non ci passa, perché è così stretto il passaggio che non ci passa, andiamo avanti, prima si eliminano i problemi e poi si fa il resto, andiamo avanti per piacere, un po' più di attenzione, ora quante altre volte dobbiamo dire che i mastelli non devono essere un ostacolo, qua facciamo il salto del mastello, ancora oggi, oggi che giorno è? Siamo al 17? Che io ho perso il riferimento, siamo al mercoledì 17? E si può ancora tollerare, cioè voi andrete, cari amministratori, cari consiglieri di maggioranza e minoranza, magari a prorogare questo appalto che riguarda i rifiuti e quindi la raccolta porta a porta, senza essere stati capaci di applicare qualcosa di elementare, ossia che i i mastelli devono rimanere lì dove stavano, dove l'utente li lascia, sono un ostacolo e allora se non volete che l'utente cominci a sclerare, perché più si va avanti e più gli utenti sono diventati irrascibili, grazie al Covid, grazie alla pressione mediatica, all'imbecillità del social, quante fesserie si iscrivono, volete che si inizi a prendere a calcio il mastello? Veramente vi devo dire la verità, stamattina è venuta la voglia, ma mi è venuta la voglia, mi sono ritornato calciatore, ero un libero io quando giocavo a calcio, mi era venuta proprio la voglia, passando da una parte dove non si riusciva, di dare un bel calcio, perché sono stato costretto ad andare per strada, la democrazia è la libertà non di fare i comodi propri, ma rendere tutti quanti liberi, anche di muoversi, in quel caso io sono stato costretto dall'amministrazione comunale che non provvede, non è capace di dire all'azienda che ti devo sanzionare, lì è andato qualcuno a fare una sanzione a chi non ha operato secondo il contratto? Facciamo un esempio pratico, o le sanzioni le facciamo solamente alla signora in piazza Kennedy che si trova a passare alle ore 11.30 di lì e si trova il posto di blocco, poverina, ha dimenticato di inserire la cintura, andiamo avanti con le immagini, abbassa di volume per piacere, se no diranno che urlo. Ora questa è l'asfalto che non c'è più, quindi bella strada purita, oggi si toglie l'asfalto, domani si asfalta, cari amici, dell'ufficio tecnico comunale, l'assessore competente, oggi si toglie l'asfalto e domani si pone il nuovo asfalto. Se no, quando rifate le gare, fateli in maniera tale che sia scritta una cosa del genere. Quanti giorni dobbiamo aspettare? C'è bisogno di aspettare tanto? Non lo so, siamo nel terzo mondo, diciamo la verità, saremo tanto bravi, tanto intelligenti, puri laureati, poco pagati come dipendenti, non so che cosa, ma alla fine non siamo capaci di fare una gara, un appalto in maniera tale che si toglie l'asfalto oggi e domani si pone no asfalto. Andiamo avanti? Perché, torniamo indietro, chiedo scusa, perché vorrei dire ai nostri signori amministratori che se qualcuno danneggia il mezzo su quella farino lì, ecco io non ricordo se qua c'è un limite di velocità, ai nostri cari amministratori, non è che posso parlare con il comandante dei vigili, non è dipendente mio, nel comandante è né il singolo vigile, dipendente vostro, allora io dico ai singoli amministratori, lì c'è un limite di velocità, se io vado a 30 km orari, sto andando a una velocità consentita nell'abitato di Acquaviva, allora nell'iposta che non ci sia un limite di velocità, mi spiegheranno quando saranno chiamati ai danni, quando quegli automobilisti che hanno danneggiato l'auto perché sono saliti sull'affarino lì, che non è più dei centimetri omologati, cari amici, qui non ci prendete in giro, non fate le leggi stupide dove si è il passaggio pedonale realzato e omologato e poi mi lasciate quella strada in quelle condizioni per una settimana, tre o quattro giorni, state violando una legge elementare che ci sta prendendo in giro e allora chiunque ha problemi al mezzo si rivolgesse alla Codacons che provvediamo a chiedere di risarcimento al comune perché il comune è responsabile delle strade pubbliche e deve accertarsi che lì ci sia l'indicazione giusta per dire non andate più a quella velocità perché ora il passaggio non è più di tot centimetri ma è diventato più alto perché io ho autorizzato un'azienda a grattare, a togliere il vecchio asfalto e quindi la doppiezza, l'altezza del passaggio pedonale rialzato è aumentata, non sono laureato ma all'elementare queste cose me le hanno insegnate che se gratti da sotto si allunga di sopra andiamo avanti e chiedo scusa ma proprio all'elementare, ora qui via Cassano gli operai in mezzo alla strada a fare i lavori, dalla fibra e sono i padroni del mondo, si crea la fila, si creerà qualche problema, magari qualche incidente, qualche tamponamento e quel povero automobilista lì rimarrà incastrato finché dovrà conciliare e poi pagare magari più alta la sua polizza assicurativa perché? Perché non c'è il controllo del territorio, non c'è il controllo del territorio, andiamo avanti, perché se vi fosse il controllo del territorio alle 11 e mezza non vi sarebbe questo mezzo parcheggiato qui sul marciapiede che è così grande che si nota anche da lontano, andiamo avanti, non vi sarebbe quest'auto parcheggiata in divieto di sosta sulla sinistra e quell'auto parcheggiata sulla piazza, sulla sinistra, la vedete all'estrema sinistra? Eh sì, se vi fosse il controllo del territorio normale, non serio, quelle auto lì in divieto non vi sarebbero in pieno giorno, furgone, auto lì e altra auto sulla piazza, andiamo avanti. Ora, in conclusione penso, possiamo dire che se quella lavagnetta è stata apposta lì con la data del 12 gennaio, ecco, per rispettare quegli anziani che quella lavagnetta la utilizzavano più dei giovani oggigiorno, perché attualmente si usa magari quella digitale, quella elettronica, quella lavagnetta è stata utilizzata dai nostri anziani, anche da me insomma, diciamo che ho la mia età, ma sicuramente dai nostri anziani. Ecco, i nostri anziani non vanno su Facebook, i nostri anziani vi hanno dato la vita, i nostri anziani hanno costruito questa città, i nostri anziani sono andati a votare, i nostri anziani hanno il diritto di essere informati, se non prima, contemporaneamente al vostro scrivere sul social, quel social che oggigiorno viene messo sotto accusa per i danni fino a provocare il suicidio che provoca. C'è chi lo dice da tanti anni che bisognava regolamentare, è meglio filtrare e controllare quanto pubblicato sul social, ma questo è un altro discorso, non si può scrivere sul Facebook senza che vi possa essere la comunicazione riservata agli altri che il social e Facebook nemmeno sanno che esista e non sono capaci di utilizzare il computer o il cellulare e quindi c'è una disparità di trattamento, di risultato, si sta privilegiando coloro i quali utilizzano il social e sono svantaggiati coloro i quali, i 70, 80 anni, 90 anni, 100 anni non vanno sul social. L'aggravante di tutto questo qual è? Che noi ci siamo, Telemaic, e continuava ad invitare e quindi pubblicamente a dire, cari amministratori, basta una telefonata, anche un collegamento tramite il telefono, Whatsapp, con qualsiasi tecnologia immaginabile possibile e quella lavagnetta la mandiamo in onda contemporaneamente, senza che diventi invece vostro strumento per aumentare i like sul vostro profilo social, sia che si tratti di profilo singolo che di profilo tra virgolette vestito di pubblico. Un saluto a voi tutti! Grazie a tutti!